Sponsor by Costa Marina, ristorante wine bar, appartamenti per vacanze a Peschici Gargano, www.costamarinapeschici.it Impresa Valassi, fermo e franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassipef.it Rama Fluid Parker Store, oleodinamica, pneumatica, automazione, ramafluid.com Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it Shabulecco, Japanese Fusion Restaurant, shabulecco.com In questo campetto ho iniziato a dare i primi calci al pallone, ma il richiamo della maglia blu celeste è davvero troppo forte per essere ignorata. Per questo motivo anche quest'anno giocherò una calciolecco, la realtà più importante della nostra zona. L'anno scorso quando mi è capitata l'occasione di venire a Lecco non ho avuto nessun dubbio, e anche quest'anno voglio continuare la mia carriera da giocatore qui. dopo la salvezza ottenuta, io e i miei compagni vogliamo regalare maggiore soddisfazione ai nostri tifosi. L'importante non è il ruolo, ma è dare il massimo contributo in campo e lottare per questa maglia. Il mister conosce benissimo le mie qualità di corsa e di adattarmi a qualsiasi posizione del campo. Dopo un anno di adattamento spero di dare un maggior contributo in campo per la squadra e non vedo l'ora che il Rigamo Ticepi torni a riempirsi, perché giocare al fianco di voi tifosi è una cosa veramente indescrivibile. Io sono Lecco!